Ormai matematicamente salvo da due settimane, il Ravenna Football Club si prepara all'ultima partita casalinga del campionato domenica alle 14.30, quando ospite al Benelli sarà il Sud Tirol. Per mantenere vivo il sogno di accedere ai play-off, i giallorussi hanno bisogno di fare punti e sfruttare al meglio il turno di riposo del Pordenone, anche in vista della difficile trasferta di settimana prossima a Sant'Arcangelo. All'andata a Bolzano fu 0-0 e non a caso i prossimi avversari, così come i giallorossi, fanno della solidità difensiva il loro punto di forza. Per fare in modo che il match non sia l'ultima apparizione davanti al proprio pubblico, il Ravenna dovrà quindi riuscire a scardinare una delle migliori difese del campionato. Ma non dovrà dimenticarsi di tenere d'occhio il bomber Rocco Costantino, secondo in classifica marcatori.